e come è andata oggi qui la raccolta? beh diciamo gli scatoloni prima vedi gli scatoloni no poi ti dico grosso modo com'è andata vedi quelli sono gli scatoloni di oggi dunque abbiamo 22 erano là 234 56 27 28 29 30 31 32 33 34 diciamo 10 in media 340 chili e 6 più altri 6 che li abbiamo consegnati stamattina presto quindi sono 40 qua 400 chili di roba 40 scatole e 400 chili di roba mediamente insomma adesso magari qualche scatola pesa di più cos'è che ha preso di più la gente? diciamo che soprattutto bella pasta no pelati però soprattutto legumi legumi qualche bottiglia di olio e poi scatoloni ci vedono i bambini alla fine dove la portate questa? questi vengono tirati e qui abbiamo il nostro responsabile a pantigliate no? a pantigliate il centro di pantigliate va bene grazie per quello che fate bravissimi l'abbiamo lavorato bene e abbiamo fatto un sacco di scorte che è la cosa bellissima poi mi cresce un po' il naso se posso dirlo però va bene no dai la signora invece è la prima volta che la fa? no no da tanti anni che fa la volontaria si si fa tutto qua tutto il giorno? no sono le pomeriggio sono venuta andiamo qui? non c'è nessuno mi dispiace va bene rifai la scena? io? si dai non hai fatto bene ma ma hai ragione assolutamente hai ragione ok grazie grazie com'è andata oggi? da che ora sei qua? un metro e mezzo com'è andata? questa l'abbiamo già bella che che messa fuori non sei minorenne vero? sono stati molto generosi ah meno male perché sono passata da un paio di niente no no qui si sono mostrati molto generosi alcare fuor magari gli altri anni eravamo alcare fuor erano un pochino più difficile forse per già l'ambiente interno entravano in fretta invece qui purtroppo ci lasciano fuori siamo al freddo ma perlomeno abbiamo più impatto con le persone per cui no no qui va molto bene grazie cosa ha portato? alla televisione hanno andato? si certo poi la vede la Tati? si è? la pasta? e allora? la pasta? la pasta? barilla pure? contenta di aver fatto un gesto? certo? lo fa sempre? diciamo un bravo a questi volontari diciamo un bravo a questi volontari che che vanno l'altro si nasconde dietro l'altro si nasconde dietro dove è andato? dietro di lei è tuo figlio? no va bene grazie signora